vai bella oh che lusso oh comoda mi che pesante mi stava andando riscaldata aspetta adesso va giù se giovia bambi una doppelmaier mi sembra nuova, nuova di pacca che sostituisce una quadrifostio doppelmaier del 1997 di cui trovate il video la sgb a paradiso che ho già filmato mia è cortissima però è veramente bella riscaldata cuca carianatura nuova di pacca e sbarra automatica che si chiude automaticamente veramente lusso questa seggia via però un po' troppo corta secondo me bel doppio effetto finale è sbarco tangenziale imbarco e sbarco tangenziale ci apre? sì al prossimo impianto grazie a tutti